salve a tutti e benvenuti a pillole di carta l'obiettivo di questo libro non è imparare a memoria dei pattern ritmici ma quello di creare ritmi che azzeccate al servizio della musica è una breve summa delle conclusioni che simona malandrino colloca al termine del suo testo chitarra funk simona malandrino è una giovane chitarrista siciliana innamorata di questo genere musicale e con l'aiuto di d'antone ha sviluppato questo piccolo grande metodo 16 lezioni 87 esempi i video online delle backing tracks sulle quali andare ad esercitarsi tutto legato esclusivamente alla chitarra funk questa bella chitarra ritmica e accattivante una volta che la si sappia però suonare con correttezza e con il timing preciso questo è l'intento di simona malandrino nel suo chitarra funk venitelo a vedere sfogliatelo e sono sicuro che lo porterete via grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.